La Toscana porterà avanti la legge già in discussione in Consiglio regionale sui diritti essenziali all'assistenza sociale e sanitaria e all'istruzione anche per gli stranieri richiedenti asilo. Lo ha detto il Presidente Enrico Rossi spiegando anche che la Regione ha preso atto del pronunciamento della Corte Costituzionale che ha dichiarato inammissibili per ragioni formali di competenza ma non nel merito i ricorsi presentati dalla Toscana e da altre Regioni sulla costituzionalità delle parti del decreto sicurezza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini sul permesso umanitario e sull'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo. La Toscana ha detto Rossi lo presenterà di nuovo. Questo ricorso adesso lo useremo nella via possibile per arrivare alla Corte che è quella che ci affiancheremo a colui che farà ricorso contro il decreto Salvini perché sente leso i propri diritti se ci sarà una persona che deciderà di fare ricorso al Tribunale civile al Tribunale ordinario noi saremo lì a fianco con il nostro ricorso per chiedere che si chiami in causa la Corte Costituzionale e quindi che la Corte Costituzionale discuta del merito nella violazione del decreto Salvini rispetto ai diritti umani fondamentali che sono il diritto alla salute, ad un minimo di cure, il diritto ad un minimo di assistenza sociale. Rossi ha ricordato che la Corte Costituzionale sempre tramite i ricorsi delle Regioni ha bocciato i poteri sostitutivi di quelli dei sindaci attribuiti ai prefetti dal decreto sicurezza e insieme al capogruppo PD in Consiglio regionale Leonardo Marras ha ricordato i cardini della proposta di legge toscana in via di approvazione. Riprendiamo l'iter della legge, una legge molto semplice che allunga già la legge che la regione approvò dopo un conflitto con il governo Berlusconi fu resa del tutto valida e che sostanzialmente dice una cosa semplice, in Toscana chiunque se ha freddo avrà una coperta e se ha fame avrà un piatto caldo. Parallelamente alla legge l'assessore alla presidenza Vittorio Buglia ha spiegato che a breve sarà pubblicato un bando da 4 milioni di euro rivolto ai soggetti del volontariato e della cooperazione sociale. Lì potranno essere presentati progetti che vanno in questa direzione, cioè si legano da un lato alle cose, ai servizi che già abbiamo, ma cercano anche di allargarli anche sperimentalmente per quei soggetti che appunto si diceva prima hanno bisogno di un sostegno di vario tipo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.